Buongiorno da BTV News. Oggi, 30 aprile, San Pio V Papa. Dal novembre 2011, 30 aprile, è ufficialmente il Jet Day, la giornata mondiale del jazz, istituita dall'UNESCO per celebrare un genere musicale che, forse più di altri, ha avuto un ruolo fondamentale nell'unione dei popoli. Nato da un mix di culture diverse, figlio dell'immigrazione, sinonimo di contaminazione per eccellenza e, talvolta inconsapevole forza motrice che ha contribuito alla fine della segregazione razziale, il jazz si è espanso a macchia d'olio, da centri nevralgici situati in variati parti del mondo, dall'Africa agli Stati Uniti, dai Caraibi all'Europa, insinuandosi in qualsiasi piega sociale. Oggi è apprezzato, suonato, ascoltato ovunque da persone appartenenti a diverse classi sociali, portatore per antonomasia di quei valori d'uguaglianza associabili a tutta la musica.